I cugini superano lo scoglio Empoli e arrivano altri tre punti che chi mi viene a dire che fossero scontati onestamente ha ben poco chiaro quello che è l'andamento in questo campionato e se c'è una squadra che appunto può dare spiegazione è lo stesso Milan. Quindi una vittoria che dimostra azione di crescita uso questa parola crescita perché se valuto la prestazione di Calulu e non lo faccio solo per il gol anzi il gol e il plus e il non il plus scusate l'extra e l'extra e quel qualcosa in più ma se guardo la prestazione di Calulu Trovo crescita, trovo crescita in tutti gli interpreti di gara. Un lavoro che va avanti da oltre due anni e che sta portando questa squadra in pedine appunto come Calulu, come Calabria, come Tomori, come Benassero in mezzo al campo, Leao, Tonali. In realtà li dovrei nominare tutti, quindi mi fermo, mi blocco. La porta, casino, per favore, un po' di rispetto, grazie. E quindi c'è un lavoro mostruoso, c'è un lavoro mostruoso fatto dall'allenatore e sì perché poi parliamo della gara in sé per sé però alla fine arriviamo a quello, arriviamo a quello. Ma con ordine, prima se volete lasciate un like per sostenere il video, iscrivetevi per sostenere invece il canale, se volete seguire i prossimi contenuti, domani altre partite e domani vedremo la mia Inter che è chiamata a rispondere. Perché la pressione adesso c'è. È vero che l'Inter ha due partite in meno, ma ha un passivo di 5 punti sul Mina che deve andare a prendere, quindi la pressione c'è. Per cui se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. Detto questo, parto da Calulu. Parto da Calulu perché credo che sia oggi il nome che mi permette di riassumere su tutto. Calulu. Oggi uso l'aggettivo ingiocabile. Voglio usare questo aggettivo perché nessuno oggi si poteva avvicinare a Calulu. Chiunque si avvicinasse a Calulu, la palla veniva sempre persa. Non si è fatto superare una volta. Tutte le diagonale ben fatte. Corsa, aggressivo, in marcatura. Tutto. Cioè, stiamo parlando di un ragazzo che sostanzialmente fino all'altro giorno forse era la quarta scelta. Oggi uno come Calulu, ragazzi miei, come lo togli dal campo? Che personalità! Che prestazioni! E non solo oggi, tu dici oggi con le... No! Con Napoli! Nelle ultime gare, valutatelo voi! E quanti giocatori come Calulu, quanti come Calulu sono cresciuti sotto la vita di Pioli? Cioè, noi il lavoro che sta facendo questo allenatore lo dobbiamo valutare, ragazzi. Lo dobbiamo valutare. Io leggevo l'altro giorno all'intervallo di Milano-Napoli, no? Perché poi veramente c'è gente forse che col calcio ha ben poco a che fare, che per alcune scelte tecniche, per alcuni giocatori inserite e scelte dall'allenatore, scrivevano Pioli out. Ma voi scherzate? O siete semplicemente out? Ma voi! Ma voi out siete! Ma proprio out totale! Questo è un allenatore che sta permettendo, grazie alla crescita, al lavoro, alle idee, sta permettendo a una squadra giovane come Milano di giocarsi lo scudetto. Sta facendo... Ha fatto... Ha fatto un lavoro clamoroso. Poi arriverà l'ultima giornata, lo puoi vincere, lo puoi perdere. Vedremo. Il bello di questo campionato è che tutto ancora può succedere, tutto in discussione. Ma il Milan se l'è giocato. Comunque vada, se lo sarà giocato... E quanti di noi lo pensavamo ad inizio stagione? Quanti? Onesti? Quanti di noi lo pensavamo? Quanti? Quanti degli addetti laureati? Quanti? Giornalisti? Quanti? Opinionisti? Quanti? Anche gli stessi youtuber? Quanti? Io non lo so, eh. Io non lo so quanti. Ha fatto stare che ci sono. Ci sono un collavoro, ci sono passando da queste partite. Oggi non era facile perché abbiamo visto che contro queste squadre a volte il Milan abbassa un po' quello che è il rendimento, abbassa un po' quello che è il livello. Nel secondo tempo infatti l'Empoli è stata in partita e gli si fanno i complimenti, giusti meriti, all'Empoli che è rimasto in gioco fino all'ultimo minuto e ci ha provato, ci ha provato con quelle che erano le proprie armi a disposizione. L'allenatore che ha cambiato, mi piacciono poi questi allenatori che vede che le cose non vanno, prima ne cambiano tre, poi ne cambiano due, provano, scombussalano, cercano nuovi spiragli, sovvertono, ribaltano, mi piacciono. Non è bastato, non è bastato perché da un lato direte il Milan però sai, fino all'ultimo, ma fino all'ultimo il Milan una sola occasione ha concesso oggi, a conti fatti una sola occasione, quella di Luperto di testa ed ha trovato un Mignon che è come al solito impeccabile. Unico tiro pericoloso e se non sbaglio proprio unico tiro verso la porta, se non quello di Bayrami sempre da calcio d'angolo che era un tiro a giro ma da calcio d'angolo. Stop. Per il resto le letture difensive tutte fatte bene, prima ho parlato di Calulo, ingiocabile Calulo oggi perché poi ha trovato anche la stoccata vincente, una stoccata che tiro, ma l'altro, Tomori, cosa sbaglia? Tomori non sbaglia una virgola, non la sbaglia e devo essere sincero anche dall'altro lato ho trovato un Luperto incredibile, super stasera anche dall'altro lato Luperto, quindi elogiamo anche le fasi difensive e attenzione perché se vuoi arrivare in fondo dietro non devi ballare, dietro te le devi sudare devi dimostrare solidità e le ultime due gare di Pioli col suo Milan dimostrano questo, è solidità difensiva, dietro non è facile fare il gol, dietro ho visto che non è per nulla facile fare il gol al Milan, ripeto anche con un Empoli che ci ha provato, se vogliamo il neo, quello di non aver chiuso la partita perché comunque ha tirato 15 volte ma si è reso poche volte pericoloso il Milan, ha provato qualche incursione Messias, accentrandosi sul sinistro, qualche situazione, qualche pallina, però se vogliamo queste magari sono partite che devi chiudere perché poi magari può capitare un episodio in aria, un episodio che ti sovverte tutto e ti trovi e ti cogli impreparato, se proprio vogliamo essere puntigliosi, però dopo una gara del genere cosa si può dire, cosa si può rimproverare, ripeto a questi ragazzi che sono cresciuti tutti, io parlavo di Pioli proprio perché da due anni a questa parte, poco più di due anni, perché poi Pioli è subentrato a Giampaolo e non è che ha avuto tutta l'estate per lavorare, è subentrato se non sbaglio a ottobre o novembre a Giampaolo e ha fatto un lavoro clamoroso, non c'è un giocatore che sotto la sua vita non sia migliorato, non c'è un giocatore, uno, non c'è, ditemelo voi un giocatore che non sia migliorato, forse direte Diaz che ha avuto un'involuzione, ma chi era prima di Diaz? Prima di arrivare a Milan? Chi era Diaz? E' il Diaz che abbiamo visto all'inizio stagione? Ma poi tutti gli altri, Benasser, cresciuto, Tonali, cresciuto, Leao, cresciuto, Messias stesso, cresciuto, adesso si può permettere, il Milan di Pioli si può permettere di giocare da un lato con Messias e dall'altro con Leao, metti che si sulla tre quarti e poi adottare questo schema qua, lo stesso Caluno, cresciuto, Calabria nei due anni, due anni fa Calabria non lo voleva neanche la madre, cresciuto, Fernandez, sì, sempre forte, tante qualità, ma da due anni a questa parte, cresciuto, cresciuti, cresciuti, si lavora con quello che si ha e si passa dal miglioramento dei propri ragazzi, la gestione di alcune pedine, se penso a Ibra, che adesso ha capito che lui deve entrare gli ultimi dieci minuti per far tenere palla, perché in quei dieci minuti deve dare l'anima, in quei dieci minuti deve rendersi efficace, senza che magari il Milan giochi con un uomo in meno per tutta la gara, sì, con un Ibra che quando c'è ti può fare la giocata, ma è giusto che giochi gli ultimi dieci, quindici minuti, così, gestisce bene la palla e fresco può strappare gli ultimi dieci, quindici minuti, può essere efficace in quei dieci, quindici minuti, può essere molto più efficace in quei dieci, quindici minuti finali, piuttosto che magari in mezzo tempo o tre quarti di tempo dove poi il più delle volte deve dosarsi e deve risparmiare energia, quindi la gestione di tutte queste pedine, il Milan sta facendo così, che si trovino là, è onore a loro, ragazzi, onore a loro. Datemi sapere cosa ne pensate voi, commentatele al canale se volete iscrivervi al canale, un grande abbraccio. Ciao!